Entra in funzione la prima fontanella di acqua pubblica in piazza municipio. Inaugurato alla presenza del sindaco De Magistris con il vice sindaco sodano ed il presidente dell'Arin Maurizio Barracco, il distributore dispenserà gratuitamente almeno per i primi mesi acqua liscia e gassata, a fredda e a temperatura ambiente che i cittadini potranno consumare direttamente o portando da casa bottiglie di vetro. Oltre a promuovere l'utilizzo dell'acqua pubblica, l'attivazione della fontana mira infatti a ridurre l'utilizzo della plastica e sensibilizzare i napoletani ad un consumo ecosostenibile. L'acqua è un bene comune, l'acqua è di tutti. Questa è la prima fontana di acqua naturale, di acqua frizzante pubblica che mettiamo qui davanti al Comune di Napoli a dimostrazione della battaglia condivisa che abbiamo portato avanti come prima città che ha attuato la volontà referendaria. Dobbiamo verificare se l'acqua frizzante, che è una novità perché non c'è in genere l'acqua frizzante che ha ovviamente dei costi dell'amministrazione, vediamo se possiamo mantenerla gratuita oppure ci sarà un costo, ma è un costo assolutamente simbolico che serve a coprire le spese, ma l'acqua è pubblica, non si paga. Già adottato in molti comuni del nord, il distributore è prodotto da una ditta toscana che garantisce il 99% di purezza e oltre piazza municipio sarà presto attivo alla stazione marittima, all'aeroporto e presso la stazione ferroviaria. Teniamo anche presente che dai dati statistici che ci ha fornito l'Aren in questi giorni, la nostra azienda è quella che nel corso degli anni ha aumentato meno delle altre città le tariffe, quindi Napoli è all'avanguardia anche in questo e poi da Napoli parte un appello importante, che nessuno si azzardi da nessuna parte del paese a stracciare la volontà popolare. Questo non si può fare né con i commi né con i decreti, perché giuridicamente è inammissibile e politicamente è inaccettabile, quindi l'acqua è un bene comune e tale rimarrà e su questo saremo intransigenti nei confronti di chiunque.